Salve a tutti ragazzi, sono Andree, con me ci sono? Alberto Red Hi E benvenuti in questa prima puntata di una nuova serie chiamata Kerbalian Space Agency Ovvero, parecchi di voi se la ricordano per essere stata una serie con tipo due puntate fatta in live No, qualcuno si ricorderà spero Tra l'altro i video non ci sanno più, o si ci sono, non me lo ricordo se li abbiamo cancellati Comunque, abbiamo deciso di riprendere, di fare una serie con questo nome perché il nome era carino Sarà una serie in carriera moddata, ci sono varie mod, ve le metteremo in descrizione perché c'è la KV Rocket 3 C'è l'Inferna Robotics, la versione ritexturizzata, altre mod, la Station Science, ce ne sono una marea E quindi, bene, iniziamo subito, come vedete siamo in carriera, tutto praticamente di base, 0-0 E i compiti in sostanza saranno che io come al solito lancio, Albe come al solito fa i vettori E Red e Tai fanno il payload o le capsule o quello che è da lanciare satelliti, bla 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 Quindi, iniziamo subito, raccogliamo del scienza random con cosa ho fatto a buffo che farò adesso con voi in video E c'è anche la cosa, come si chiama, la Deadly Reentry, quindi ci sono i shield ovunque Fortunatamente la prima capsula ce l'ha già incorporato E ci sarà anche la Void che dà tutte le informazioni su, eccetera, che però voglio nascondere, ok Bene, questa capsula perché è l'unica che abbiamo Abbiamo anche la Tweak Scale, quindi si può anche allargare, ma non ha senso Fuel Tanks, allora, voi vediamo, vediamo come posso fare Perché non ci sono gli interstage, cioè non ci sono i D-Capler, quindi diventa un po' un problema Una cagata del genere sfruttando il... No No, Albe dice di no Il motore non fa abbastanza colore da fare spodere l'SRP Lo faceva un tempo Boh, va bene, allora Beh, se piedi da solo But Se piedi da solo Messi qualche paracapota in più così atterra tutto Sì, lo faccio atterrar tutto L'antenna non ce la metto Non puoi neanche uscire, vedete Sì, infatti, insomma, fa cazzo Che bello L'antenna non la metto perché tanto faccio i recovery Gliccio motori Dove è gliccio motori? No, no, va bene, va bene, così C'è un po' qua, ti torno, Andre Premi due Sì Gliccio così, ma è orribile glitcharlo così Gliccio di più È brutto, si vede... Così Così Ancora In fuori Basta, ecco, così va bene È orribile qua, va bene Sì, vabbè, sì È stiloso, ok Da oggi in poi è una cosa figa Allora Che altre roba c'è? Vabbè Cosa, non ce ne frega niente Voglio fare questa... Merda, non me lo fa fare Non me lo fa attaccare, perché? Perché c'è il motore L'attacca sul potere sopra E la trasli, i geni Infatti, l'attacco su quello sopra E la trasli Ma come fare? No, sennò Buttida Voglio fare le landing legs per farlo atterrare No, si glizzano con il... È lesa, non è la SpaceX Mettili in fuori In fuori In fuori Sì Oh Glicciano, si glizzano, non so che non parti più No, partono, partono No, non so, non ti partono Ne vorrei anche mettere un altro Poi diventò Cos'è stai facendo? Mi fai fare, Alberto Tira lì via, non servono Così fa, è più stiloso Sono sui di più Sì, infatti Preso in più Soldi è preso in più Non so se esplode, vabbè Tanto spero avremo abbastanza fuel Da fare un atterraggio Vabbè, c'è anche il paracadute Ok, forse è un po' più in basso Andre, va bene Sì, però Andre Ok Dei contratti di prendere? Sì, è vero, i contratti Va bene, aspetta Tanto ci ho messo in riverta Anche se poi lo toglierò Ma solamente perché No, a parte faccio tranquillamente Space Center E fanculo E poi lo rilancio Quindi Allora Contratti metti Lancia e Cinque mila metri E che hai fatto recover? Hai perso soldi? No Sono rimasti uguali Sono gli stessi, Albe Allora Dove siete? Contratti Per questa volta ti ha perdonato anche Capo Esatto Lollo Lancia e Cinque mila A posto Dove si Hai un nome però Sì, infatti Eeeh X1 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 Vabbè X1 No aspetta A0 Perfetto Il veicolo A0 Ovvero un veicolo del cazzo che utilizzerò Non fare la Cioè? Wait L'ha fatto recover probabilmente No, no, no L'aveva già fatto Tanto Non c'è Compact Game Audio sta visual Oh Ok Qui ci sono le Allegre visuali Con tutte Delta V Eccetera Perfetto Lo stage Vabbè Lo sistemo da qua Non ha al massimo la potenza Sì, Albe Stai tranquillo Allora Giustamente c'è le 6S Ma non serve a un cazzo C'è il nostro Allegro GBD Che Boh Pesa 5.06 tonnellate Vabbè E partiamo con la lancia Non ho fatto il 321 Leafoff Vabbè Leafoff Fai qualche crioporto Sì, no, non ho l'antenna Lo faccio quando so Perché non hai messo l'antenna? Perché poi Finisce la corrente Alba C'è il motore Vabbè Il prossimo ce lo metto Per ora faccio Quando più alto Quando si più alto Se neppi cento Anzi Tanto è la 5.000 Poi spegne il motore E fai una decisa tipo SpaceX Sì, 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 sì Uso il paracadute giusto per emergenza No, lo usi paracadute comunque per star di diritto Vabbè, il motore 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 Perché è abbassato la pressione Perché se nemmeno Non so perché è così alta Con sopra cadute E con tutti Stocco No, di solito Su quelli più grandi Al minimo Con il droga È 001 Ma anche gli altri Sono 001 No È 001 01 È un decimo Valeria poco Sì, ma quando è che arriva Siamo un po' più basso Inizio a Ora mi raccomando Schiantati Come ha fatto la SpaceX Ok, adesso ci vediamo Un quarto Dove per arrivare Time warp Ti Ti Adesso Overcompain Siete i schianti Contro il launchpad Esatto No, aspetta Mi deve finire liquido idraulico Perché se no non va bene Deve finire il fiore Esatto Ok Giusto, ne approfitto Per dire in questa Dicesa molto lunga Che Ace the Brave Che spero voi conosciate Inizierà il 12 febbraio A fare una serie In carriera Stock Di Kerbal Poi eriamo Perché Ehi What? Vabbè E comunque More spoiler Vi consiglio di guardarla Perché comunque Collaboriamo insieme Ovvero Gli ho dato Io personalmente Sia una mano Che comunque No in generale Da Anche la sua vecchia Serie in carriera Che gli diamo una mano E No Era stock Cioè era Sandbox Fanculo Era carriera No, no Quella di prima Era carriera Carriera Non me lo ricordavo E va bene E quindi I ravioli SES Sì Non cambia un cazzo Perché non c'è l'SES Cioè Consumi meno corrente Non dischianti Albe C'è il cazzo di più Vabbè Siamo addirati proprio sulla rampa Aumenta Piano 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 Ok Fuck Aspetta 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 Sì Fuck yeah Bene Ehm Ok Dove sei? No 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 Sopra Sì 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 Sopra Ecco Vabbè avrei fatto space enter e recover direttamente da là E' uguale Allora Bene 13 punti scienza Abbiamo recuperato Wow Abbiamo preso tanti più fondi Perché I contratti E vabbè Ha guadagnato uno di esperienza al piccolo Jebby Che Mi serve un cazzo Però va bene E Sblocchiamo quindi Il Il Ti Vai Ok Abbiamo 8 Sottiscenza E ne servono 15 per far qualcosa Ma non ne abbiamo 15 Quindi abbiamo sbloccato D-Coupler D-Coupler Un SRB Piccolo Se non mi sbaglio questo D-Coupler D-Coupler Procedure a liquid tank Ok buono Fuel tank Fuel tank Mystery goo Quindi scienza E un altro D-Coupler Perché abbiamo tanti D-Coupler Bene Infatti forse dovremmo levare qualche D-Coupler Perché ci sono quelli della KV E quelli della procedural Quindi Facciamo la 1 E modifichiamo un po' Sta cagata E Non mi ricordo quanti Eh Contratti Contratti Sì ecco calmo Contratti Calmo Contratti Lo modificavo Lo salvavo Aspetta intanto Dobbiamo anche in giro a fare report Per Kirby Sì sì poi I contratti Quelli delle visual survey Allora Contratti Contratti Ok Lo sto facendo Sto so facendo Vi fatti i contratti Le strategie che No Dove cazzo sto andando Strategia che mettiamo Possiamo prendere niente? No Strategia? No Consiglio? No Niente Faremo una strategia per il recupero party Perché c'è una moda che ti permette Anche se il craft è fuori dalla sfera di influenza 2,5 km Che calcola se abbastanza paracaduti Per atterrare Smart Station Dobbiamo metterla Qualcosa del genere E' il recupero Possiamo mettere l'altitude record Sì E' E' I test Race the space 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 Ok sì Escape the atmosphere Un penultimo Escape sì Infatti c'è 5 stelle C'è 3 stelle Perché boh E' 5 stelle 5 stelle E' lezione E' lezione Ok Adesso toccarà Adesso C'è Non è che tocca Adesso Mi deve dare giusto Ci sono di capire Quindi famiglia Vertica Staccagata Sì infatti Ah Mettiamo l'antenna Mettiamo l'antenna Ok Mister Ego Sì ecco Mi fai farlo Mi fai fare l'antenna Così è verticale Alberto Mi dai il cazzo di tempo materiale Di farlo Non è verticale Non è verticale Aspetta che Oddio mio Sì è verticale La glitcho anche un po' No No Non è verticale Oddio mio Devo mettere la simmetria Che magari Cosa stai facendo Cosa stai facendo E' verticale adesso Perché lì dentro Boh La tengo fuori E' uguale Ok Merda Fa' coole glitch E si glitcha questa La metto qui Albe O la metto glitchata nel paracadute Albe non risponde Quindi direi che La lasciamo qua Che ci ha consente Non è pervenuto Non è intervenuto Beh Albe fa sempre così Quindi ormai ci sono abituato Bene Misery Goon Ne mettiamo due Deadly Rientry E' bruttissimo Sì il Deadly Rientry Ma Oh Farò il piccolo stage Per rallentare durante il rientro Per evitare di fare esplodere tutto Stai tranquillo Albe Non me la tirare Cattivo Cosa cattivo Se mi piacciono di più I dicapler Quelli della Del costo Albe So a 3.000 Il costo e il peso Guarda quello stock Aspetta Costa di più quello stock E vai E pesa di più No pesa di più Perché non mi stancarlo Scusa Non puoi fare un single stage Così recopriamo più soldi Faccio single stage Opposto Tanto Devi solo andare all'ultima E tornare giù Eeeh Che faccio Se non ripeto il tempo Procedurali Andrei Sì lo sto facendo Che texture gli metto Vabbè metto Quella Nasa Non lo so Satur No Redstone GG Allora Eeeh Non potrei farlo Più in una di un tot Per quello del problema Sì lo so E tra l'altro Ma che cazzo Ah no ok Sì infatti il massimo Contro C contro V Sì esatto Alt Sì sì No le metto un altro E lo rifaccio Mi è più comodo Contro C contro V Allora E' bruttissima E' bruttissima però Le texture che si sovrappongono Mettilo sottosopra E' vero Clop clop E' illuminativo firmat Vabbè Eeeh Ci arriva sto coso Quanto delta via Sì ipoteticamente ci arriva Cotto eh E 3000 e passa Sì sì Un redstone Ci metto un Così un No ok Lo lascio così No Glice motore Glice motore ok Albe Glice motore Albe è motore glice Estetica Estetica Glice anche il misteri goo Così o meno non bruciano Va bene E il misteri goo Ecco sto facendo il motore Mi dai il tempo Aspetta No F Non ho fatto Di più Di più Di più Bravo No Ok Basta Basta Un po' più fuori No Basta Ecco così va bene Perfetto Facciamo questo lancio E poi per questa Leggermente dentro la capsula Che c'è Un Spazietto Spazio Bravo Ok I misteri goo Di qua fanno cagare Però va bene E rinominiamo in A1 Che abbiamo molta fantasia Di A9 A12 A1 E lanciamo sto coso I contratti già ci sono Quindi Puoi prendere il contratto Nella testa Dopo la caduta Già che c'eri Eh sono Due contratti C'è quello C'ha L'escape Dall'atmosfera E il coso Come cazzo si chiama 11.000 11.000 11.000 Sì vabbè Mi scrivi di atmosfera E non consiglio Punta un pochino Da una parte In modo che si percepiti Non percepiti Sul Esatto Già che se distruggiamo qualcosa Andre Sì infatti Sono cazzi Quindi Adesso Poco 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 Ecco Ecco Ancora Di controllo andare No No Non Dall'altra parte Dove Ancora Fermo Fermo Così Fermo TTT 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 Guarda che non c'è LSS C'è se c'è Non c'è neanche lo stability Ma ci sta fermo Con l'acceleratore No Mi piace muovere Shift Control Così a bufo Time Morpo Per sicurezza Almeno No Andremo Ci giochi a Kermann Sì ci gioco a Kermann Però Time Morpo Sempre durante i lanci Anche se Con il time Morpo Fisico Faccio Riporta buffo No No Aspetta nello spazio Vabbè Lancia L'energia Che L'energia Ascolta Disabriti Da 6 E vai Su Senza C'è Uno mi dice Abilitarlo L'altro mi dice Disabilitarlo Che cazzo faccio Va bene Non è meglio F2 Semplicemente Quando Non devi fare niente Chiudi la batteria Della capsula A parte Quando non devi fare niente Adesso Solo 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 Stavo Ho una netta sensazione Che non riusciamo Da arrivare in orbita Costa Cariata Sì Lo dice albe In orbita In orbita In orbita In orbita Fuori dall'atmosfera Abbasso 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 Intanto Abbiamo contratto E' fatto 9 20 8 Quals'un mappa Della Quanto è 36 Abbasso Ancora un po' E' mai finiamo in mare Dai Spacex Time Però non c'è la piattaforma Vabbè Meglio Almeno Facciamo esplodere Lascia 15 litri Quindici Napa 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 Ecco aspetta 15 litri Sì albe Quindici Ecco 16 15 Precisi 4 e 14 e 99 Però non usciamo Dall'alto Stabilità batteria Yep Ero poi tamorpor Ok Non c'è un'atmosfera Sì infatti 61 No Vabbè Lo riattivo Leggermente Vediamo un po' Non so che C'è un genius Ci riesco No Aspetta Z Aspetta Z Z Apropi alla bastarda Vediamo No Fuck Ok No Ok Un cazzo Z Ho detto Eh albe Finito il fuel Bene Non siamo usciti Dall'atmosfera GG Roberto Riverto Bene Riverto To lunch Yeah Questa è una simulazione Che cosa Ripeti Non ho capito È una simulazione In realtà Beh non è una vera e propria simulazione Ora premi spazi Non toccare niente Ok Ok La manetta è un po' bassina In modo da evitare troppi G Ok Abbasso leggermente la manetta La metto alla prima tacchetta Almeno almeno Seconda Troppo poco Va bene Ok 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 Basta Ok Madonna Bene Non fate squillare La sveglia Delle 12 e 40 Abbiamo fatto il riverto Quindi Ora vi farà rumori random Conoscendolo No Oh Strano Allora Devo un'occhiata un pochino A nostri dati Allora Non vedo la segra Allora Zuzumba Zuzumba Ah se vuoi te la leggo Cioè La qualità del live Esatto Vabbè Non è che Stai vedendo il fullscreen Ma per problemi tecnici Di google Fa culo Ok Allora Saliamo Saliamo Bene Parliamo di qualcosa di No Ok Ok La 1.0 E rientri Hit E nuove risorse Parliamo della 1.0 Dalla che ci siamo Sarà Il sistema aerodinamico Sarà Con un accenno Di similitudine Alla far Far Uguale Cioè si spaccano le ali Se fate Aereo con apertura Alare Boia No Sì Albe E allora I droni Scusa Come fanno a volare Secondo il tuo ragionamento Non fate i droni Su Kerbal Ok Che di abbasso un po' E Niente su 1.2G circa E vabbè Guarda dove c'è il segnale Il segnale del G No Qui non c'è La prima attacca è 1G Sai com'è? Sì lo so 1.5 1.5 Un 3 Un 3 Non fa la differenza Qualche senso A far partire Dal 0 Se non puoi andare In negativo Su Kerbal No puoi andare In negativo In teoria In teoria Ma non ce ne sono mai riuscito io Hai fatto un loop Interno C'esterno Scusa No E non avrebbe senso farlo Presti colori Ci sono più importanti Presti colori Ok lascio sempre qui Fai le frecce tricolori su Kerbal Aspetta gliel'avevo fatto Però poi sono cambiate le ali Quindi rip Eh io il tuo sunbreaker Com'era sunbreaker Ho più potenza Andrea che sta uscendo dall'atmosfera Ho più potenza Ok troppo Basta Basta Ok 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 10 La posizione Adesso quanto è E 26 A parte sta scritto qua Eh perciò Si dice molto Ok Adesso si legge meglio No No 30 31 32 Te lo devo farlo Devo farlo Non so che che mi dice Basta la manità Basta la manità 39 40 41 42 Ok no Abbiamo superato i 15 Siamo a 10 Siamo a 10 Siamo a 10 Fanculo E tieni 2 litri ultima speranza Ok vai A questo punto metto al massimo Quanto è? 2 litri Siamo a 51 Ok con sto cosa non ci riusciamo Eh tra Mr. Vedete Vabbè si faccio il Mr. G fanculo Un contratto resta lì È buffo Ok Keep data Non trasmette i dati Perché Tanto È verità Ne perdi in metà È per quello Key report Eh Key report Puoi trasmetterlo Sì infatti Per un Porto di animale No Ne hai 50 Ne consuma 30 Ne ho 19 Ora chiudo Ce ne ho 20 Tai morto Tai morto Intanto apro un nuovo bello Ti 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 Dovremmo mettere la colonna sonora Dalla prossima puntata ci sarà anche la colonna sonora Cioè non è tipo in questi momenti bui in cui non si fa un cazzo E atterriamo sulle montagne No no Atterriamo al limite tra la spiaggia o quello che cazzo è Il terreno spiaggioso E il terreno Bim A buffo Ok 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 Stiamo rientrando Merda Paracadute Non posso Non posso Non posso cosarla perché è unsafe Vabbè ok Isabilita l'SIS La corrente Andre La corrente E' spenta E' spenta E' inutile Se non abilete la corrente non puoi fare niente Lo so Ok Ah per il corrente Non è un colpimentatore con la semi verticale Ok No niente come ho detto A posto No vabbè ci siamo vagamente Basta un pochino per fare cadute l'apertura Sì ok ok Ecco non ha 5 metri però No 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 Metto 650 Magari rallenti la vibrazione Così non distrugge tutto il paracadute Ok Dai Ok E' 650 il deploy A posto Atterriamo a 12 metri al secondo circa Time warp Bla 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 E' ancora il motore quando si è l'ultimo Sì quando sto F5 Ne approfitto Quick save random Almeno Se ci sono Mi può solve the time Mi sa che dopo si distrugge il paracadute però se ricarichi Non lo so Aspetta è tanto tipo Pochissimo Eh la so Adesso devo tornare A posto Yeee GG Recover vessel Aspetta sì sì ok Bene Zuckerberg Perfetto 24 punti scienza Oh buono Tanti tanti fondi E Jebby non ha guadagnato un calzo di esperienza Bene Povero Jebby Ma che Ok Terreno che si glitch a buffo Che sblocco De Oh Posso sbloccare tutti e tre Cioè uno dei tre Consigliatemi voi E magari clicchi così vediamo cosa sblocchi Allora Qui sblocco Procedura l'Eat Shield Eeeh La LV Questo Terrier Questo Questo Andilex Paracadute radiali Questo Questo Ok Bene Abbiamo 9,9 punti scienza con cui non si può fare un cazzo Iluminati Science Archive Eeeh Vabbè Osservazioni Osservazioni Random Ok Solamente Riguardo a Kerbin Bene E quindi per questa prima puntata direi che è praticamente tutto Perché non Abbiamo praticamente una Cioè Fare un altro lancio Sempre di questi qui Eeeh E poi già sta durando un po' la puntata Quindi Un saluto a tutti dal team di Kerbal Italia Da Andrea E Alberto Mi ha aperto questo Ciao 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 Grazie.